La città di Agropoli raggiunge il 50% dei cittadini vaccinati, lo fa sapere l'ente comunale in una nota stampa. Davvero una bella notizia in vista dell'estate ormai alle porte, siamo felici ed orgogliosi. Ringraziamo gli operatori sanitari che stanno lavorando in maniera incessante per arrivare a coprire quanto prima il maggior numero di vaccinati. Così il sindaco del comune di Agropoli a Damocoppola. Non dimentico certamente gli amministratori, i volontari e tutti coloro che stanno collaborando affinché tutto si svolga al meglio, sottolinea Coppola. La metà dei residenti ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-covid-19, sono per la precisione 15.861 le dosi somministrate in totale, mentre sono 10.833 i concittadini che hanno ricevuto almeno una dose. Intanto scende ancora il numero di casi positivi al covid-19. Nella giornata di ieri si è verificato un nuovo caso di contagio, ma nel contempo ci sono state anche cinque guarigioni. Il dato di positivi attuali è pari a 12, mentre il numero di guariti totali sale a 395. Avanti così verso Agropoli covid-free, conclude il primo cittadino a Damocoppola.